Pronto, parlo con Padre Lombardi? Dica. Buongiorno, sono Alberto Maggi del quotidiano online affaritaliani.it. Volevo chiederle, la Santa Sede, come ha vissuto questo gioco giornalistico del derby dei due papi? È una cosa che vi disturba, vi è simpatica, mi riferisco a Germania-Argentina ovviamente, è una cosa di colore? Sì, sì, non ho nulla di particolare da dire, non mi stupisce, non ci sorprende, non mi disturba in particolare, diciamo, in qualche modo prevedibile, non si vive con serenità sapendo che non è una cosa un po' scherzosa. E Papa Francesco guarderà la partita che lei sappia? Oh Gesù mio, no, sei la centesima persona, credo che me lo chiede, e io dubito molto che lo guarderà, perché di solito lui non guarda neanche la televisione e l'ora è tarda. Non lo so. E anche Papa Emerito non credo che... Papa Emerito l'ho credo, lo escluderei quasi totalmente, perché non mi pare che abbia mai avuto neanche un particolare interesse per il calcio, però questo non vuol dire che non venga informato, dato che poi è un evento che richiama certamente l'attenzione e la curiosità. Sì, ultima cosa, Papa Francesco è tifoso dell'Argentina, cioè voglio dire, sappiamo che è tifoso della sua squadra di calcio, addirittura alla maglietta, dell'Argentina, del San Lorenzo giustamente, alla maglietta e tutto, ma anche dell'Argentina è tifoso, ci tiene? Cosa vuole che le dica? Lui aveva fatto il suo messaggio per il mondiale che abbiamo visto, poi sappiamo che ha detto che non avrebbe avuto delle preferenze, diciamo, per gli uni o per gli altri e si augura sempre che vinta il migliore, che basta così. Grazie. Ciao. Ok, arrivederci. Grazie.